Non ho dubbi che la gente manchi qualche rotella Anche a me manca qualche rotella, ma anche se ne fredda la fiera C'è tanto per rispondere un attimo a quei ben pensanti, schifosi, che si trovano là fuori Cosa volete da noi? Noi siamo qua, lavoriamo, studiamo, ci facciamo un culo grosso come una casa E voi siete là che non fate niente Siete immersi in quello che voi pensate essere il vostro lavoro, non è niente Niente non è solamente ipocrisia da parte vostra E prima o poi signori, signori, proprio voi ci sarà un grosso ribaltone E non solo dal punto di vista politico, ma dal punto di vista sociale Vi ritroverete prima o poi signori, veramente con i forconi tra le chiappe Vi saluto, che vi pesi sulla coscienza un po'